Era tifosissimo della Roma ed ora il Roma Club di Arezzo in via Malpighi porta il suo nome. Sabato scorso si è svolta la cerimonia in ricordo di Marco Magni, l'imprenditore di Prato Vecchio morto a soli 49 anni a causa di una grave infezione. E alla cerimonia non è voluto mancare il padre di Marco, dunque è un grande gesto di sensibilità quello del Roma Club di Arezzo che ricorda Marco per la sua grande generosità e disponibilità quando c'era bisogno non si era mai tirato indietro. Durante la cerimonia di intitolazione della sede non sono mancati momenti di commozione. Marco manca tantissimo non solo alla sua famiglia ma anche a tutti gli amici e dai soci del club che ne avevano apprezzato le grandi doti umane.